La biodiversità è la ricchezza di vita sulla terra, composta da milioni di piante, animali e microorganismi, dalla loro variabilità genetica e dai complessi ecosistemi che vanno dalle foreste ai corsi d'acqua alle praterie alpine. L'Italia ha il privilegio di ospitare un patrimonio di specie tra i più significativi a livello europeo. Degli ambienti presenti sul nostro territorio, quelli acquatici sono i più ricchi di specie animali e vegetali, ma anche i più vulnerabili, essendo l'acqua una risorsa molto richiesta per le attività umane. Tutelare fiumi e laghi, non inquinarli e non modificarne la naturalità, significa assicurare anche agli esseri umani maggiori possibilità di superare gli stress ambientali, spesso causati da una poco lungimirante azione umana. La diversità è sempre, in ogni campo, un'opportunità da non perdere, per avere maggiori possibilità di sopravvivenza. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS